Ciao ragazzi, la prossima puntata sarà il 24 novembre. Non saremo qui ma alla fiera G come giocare al padiglione di giochi preziosi a Milano. Saremo lì tutto il giorno per fare foto e giocare con voi. Faremo delle dirette dove anche voi potrete essere dei protagonisti. E scusa, ma per chi non può venire in fiera? Può interagire durante le dirette. Giusto, allora vi aspettiamo il 24 novembre. Non mancate, ciao!